musica 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 bello a tutti ragazzi qui è Ronnie e benissimo qui oggi con un nuovo video siamo qui con il primo pigslips di questo canale in questa partita mi andrò a giocare contro uno sfidante che si chiama XRenna che è un mio amico Jeremy Menez in forma, pagato 62.000 adesso costa intorno ai 55 la squadra che userò è questa proprio questa qui, cioè è questa per voi haaaah bello, lo vado a invitare perfetto siamo riusciti dopo 20 minuti a trovarci per qualche problema una tecnica vediamo la nostra squadra con 4-3-3 c'ho 86 è forte è forte oddio Benzema, James Rodriguez, Modric sono forti ragazzi non mi apre il culo e io c'ho Menez nero da mettere in palio C'era Menez 1-0 al settimo minuto C'era Menez un grandissimo gol parte Medel uh, qui Raffallo qui Raffallo Dio da solo vai Nostra va no 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 non era rigore mi rifiuto ma dai ho preso la palla non fa vedere il replay non fa vedere il replay era palla nooo ragazzi io questo gioco non lo sopporto per i rigori ma che rigore è questo? ma poteva farlo segnale a questo punto ma che senso ha avere un rigore così? nooo io non ci posso credere ragazzi io non ma che gioco è questo? ma che gioco è? ma questo è un gioco di caccio quadrado se ne va via con le finte quadrado 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 palo non ci credo no dopo un'azione così non puoi prendere palo ma ragazzi uno senza parole non è questo che non è fifa questo che è un gioco di barbie non è fifa ma non è fifa cazzo ma non è fifa due a due ma non è fifa questo anche sto gol cioè mi fa schifo fare un gol così un bag di merda che cazzo di gol è? come quel rigore del cazzo tu presa all'inizio nooo corre dritto e va in porta ma dai cos'è il fallo pure? ah no è finita ecco palla dentro e questo è il gol e questo è il gol e lo sapevo no vabbè ma un rimpallo è partire così uno contro uno ma non si può ragazzi però non si può ma cos'è sto rimpallo? ma ancora rimpalli? no cosa mi ha parato? no 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 cosa mi ha parato? non ci posso credere non ci posso credere cosa mi ha parato non ci posso credere cosa mi ha parato palla dentro killini dalla niente eh boh no no ragazzi questo gioco non lo capisco proprio no vabbè ragazzi non ho parole proprio però ragazzi cioè farò pochissimi pink slips lo dico cioè perché perdere non è che mi scoccia perdere così sì però cioè non puoi neanche fare così a un avversario è rigore dai ma poi questo gioco ma come l'hanno fatto con i piedi partita centrocampo corri dritto e vai a segnare ok ragazzi il suo club attuale frittella morata e io lo compro a 61.000 mmm la vacca schifosa proprio troia la vacca 61.000 crediti persi l'ho comprato ehm ragazzi ehm questo video è tutto ehm farò altri pink slips però se vedo che ne perdo troppi per questo motivo non se li perdo se merito chi se ne frega dal giocatore però se li perdo per questo motivo rigori regalati o queste cose basta non ne faccio più perchè questo fifa l'ho per cazzo io i crediti non li ho comprati ma li sono fatti io facendomi le partite quindi un bucio di culo così quindi ragazzi per questo video è tutto io vi saluto ci sento a persone più bella ciao